we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone e ragazzi oramai ci siamo mancano davvero pochissime ore all'unico ma incredibile evento di questa season numero 8 evento che stiamo aspettando che tutta la community di fortnite aspetta con ansia e che vedremo nel dettaglio anche in questo video mostrandovi un paio di cose molto interessanti che forse non sapete parleremo appunto dell'evento loot lake vulcano chiamato anche un vaulted event questo è il nome ufficiale in inglese ma vedremo anche ragazzi una nuova modalità scoperta nei codici di gioco che non sappiamo se arriverà prima della season 9 oppure farà parte della nuova stagione season 9 ragazzi della quale cercheremo se avrò del tempo di visualizzare di identificare un pochettino meglio per capire anche la trama che cosa ci dovremmo aspettare insomma un sacco di cose super super interessanti voglio però prima ringraziare tutti coloro che utilizzano nello shop il mio codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi per sostenere il canale con le vostre scioppazzate prepotenti mi raccomando iscrivetevi in tantissimi e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima ragazzi oggi è bella oggi è bella raga la domandina ve la devo ve la devo fare raga ve la devo fare perché è molto molto interessante ed è una domanda che richiede la vostra attenzione ma secondo te quale novità ci sarà nella season 9 vi spiego meglio nella season 1 abbiamo avuto le nuove skin e i balletti di default nella season 2 abbiamo avuto le emote nella season 3 abbiamo avuto i backpack e trails trails nella season 4 abbiamo avuto gli spray nella season 5 sono arrivati i giocattoli la pala da golf insomma la pala da basket e tutto nella season 6 sono arrivati i background musicali e nuovi giocattoli nella season 7 sono arrivate le skin per le armi nella season 8 skin animate per armi e veicoli e alcuni stili quindi i caschi rimossi dalle skin secondo voi cosa sarà il punto nuovo di questa season numero 9 è una bella domanda io non lo so sinceramente ma se a voi viene in mente qualcosa mi raccomando i vostri commenti qui sotto che ci tengo tantissimo a saperli ma quindi ciancio le bande e bando alle ciance si va si va si va ed eccola qua ragazzi bellissima panoramica di sponde del saccheggio da poche ore è apparso là in cielo il mega countdown che finalmente ufficializza una volta per tutte l'evento che già ieri vi avevo anticipato nel video delle news mattutine alle ore 21 di questa sera occhi puntati su vulcano e sul lago e non solo ragazzi perché qualcosa di molto molto interessante accadrà abbiamo anche ragazzi la quinta runa finalmente che attiva il portale di sponde del saccheggio sappiamo in realtà che si aprirà quella porta centrale ne uscirà un fascio di luce ma voglio farvi vedere ragazzi due video due video molto interessanti con degli elementi che faranno parte di questo evento vi faccio vedere il primo ragazzi che è molto molto carino ed è una specie di rift barra portale molto simile al butterfly event quello che abbiamo già vissuto come vedete la skin ragazzi viene in questo modo illuminata da questa piccola esplosione che in realtà penso sia penso serva per togliere le skin dalla mappa mentre si modifica perché sappiamo ragazzi che il vulcano erutterà e abbiamo anche una bellissima animazione che io penso sia proprio quella ufficiale dell'evento che è proprio l'esplosione l'effetto dell'esplosione come vedete interessantissimo e assurdo non guardate la posizione perché ovviamente non è quella a noi interessa vedere l'animazione in sé e probabilmente questa esplosione darà il via all'evento che non dovrebbe durare chissà quanto però guardate che roba ragazzi dai ha proprio lo stile di fortnite è davvero molto molto interessante e un'immagine altrettanto interessante è questa ragazzi che alcuni leakers sostengono essere proprio il momento dell'eruzione del vulcano il vulcano ragazzi erutterà abbiamo un'altra immagine bellissima questa forse l'avete già vista sparando letteralmente rocce infuocate dalla sua bocca che andranno a modificare alcune parti molto importanti della mappa mi soffermo ancora un secondo su sponde del saccheggio per finalmente dirvi che tutti gli schermi adesso mostrano gli elementi che vedremo nella nella vaulted event di domani quindi mi raccomando pensate bene e fate la vostra scelta perché uno di questi oggetti domani tornerà permanentemente in game se volete qualche qualche informazione guardando un po su reddit guardando un po sui forum dove ci sono molti youtubers che fanno il sondaggio è schiacciante la vittoria della thompson ragazzi la drum gun sembra davvero la favorita per il rientro su fortnite io ho votato meglio voterò la mitraglietta tattica perché la thompson ragazzi molto più bella secondo me la mitraglietta ma non è finita perché c'è un'altra cosa interessantissima qua entriamo invece nei codici del gioco queste sono delle stringhe relative alle modifiche strutturali della mappa con l'evento di domani come vedete fort nexus transition che è dove c'è la freccia vuol dire che verranno modificate permanentemente delle strutture di default della mappa e un post di un leakers molto famoso sostiene che la modifica della transizione nella mappa sarà relativa a reta il raw che è porco giuda crocivia del cerpame non me lo ricordo no quello è junk junction vabbè reta il raw ragazzi pinnacoli pendenti e l'iceberg di picco a reta il raw è corso commercio e l'iceberg di picco polare ragazzi quindi tre sono le location che verranno modificate distrutte da questi meteoriti staremo a vedere che diamine si sono inventati quelli di epigames perché sono davvero molto curioso di vedere questo evento della season numero 8 ma andiamo avanti e un'altra figata scoperta nei codici ragazzi è la nuova modalità di cui vi ho parlato inizio video si chiamerà reverse gun game una modalità che in realtà vi avevo già anticipato ancora nella season 6 ragazzi è davvero tanto che stanno aspettando il momento per portarla in game abbiamo anche la descrizione quindi la modalità arriverà ufficialmente la descrizione dice tradotto in italiano tutti i giocatori iniziano con lo stesso con la stessa arma eliminando un player ci verrà data un'arma leggermente inferiore come potenza il primo giocatore che utilizzerà tutte le armi quindi farà una kill con tutta la serie di armi che gli verrà data sarà il vincitore della battaglia reale questo tipo di modalità vi garantisco che è una figata perché esisteva anche su battlefield però era il contrario tutti iniziavano con l'arma più devole e più andavi avanti più ti davano un'arma forte quindi davvero divertentissima come nuova ltm non vedo l'ora di giocarla e chiudiamo ragazzi con le sfide overtime challenge quelle di cui sono arrivate da poche ore quelle che sono arrivate da poche ore vi ricordo completatele per ottenere gli stili personalizzati di queste tre skin e al completamento di tutte le sfide ci verrà dato invece il banner la schermata di caricamento relativa alla season numero 8 assolutamente imperdibile da tenere come ricordo beh ragazzi anche per oggi io ve le ho dette davvero tutte vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 13 live ciao ciao ciao